Sapete bene che noi alla Commissione europea abbiamo proposto un finanziamento al 100% per le catastrofi naturali. Non ho capito e non posso capire perché possiamo cofinanziare al 100% le piccole e medie imprese, perché possiamo cofinanziare al 100% quando si tratta di posti di lavoro per i giovani, Youth Guarantee, e non possiamo finanziare al 100% quando si tratta di persone che perdono tutto. E io ho visto a Norcia persone che sono nelle auto da giorni, settimane e mesi, ho visto a Madeira case bruciate, anche nelle isole. È facile stare in una sala a Bruxelles e dire che non sono d'accordo col 100% del cofinanziamento, ma gli Stati membri da dove devono prendere il 5% che il Consiglio ha proposto se non ce l'hanno al bilancio? Questa sarebbe stata la solidarietà tra gli Stati membri che hanno votato contro la proposta del Parlamento, che sono dietro a tutto ciò. Noi, Commissione europea, abbiamo proposto il 100% di cofinanziamento. Se domani ci sarà un terremoto in uno Stato membro, andremo ai ministri degli esteri dei paesi che hanno votato contro.